Noi dobbiamo sempre avere la capacità di essere uguali e diversi, e la diversità è la ricchezza. Voi oggi ti avete insegnato questo. Grazie a Cizia, grazie a Diana e io grazie a voi tutti. Questa è anche casa vostra. Questa è casa vostra. Quando volete fare le cose non dovete neanche chiedere. Qua fate perché questa è la casa della cultura, questa è la casa dell'emozione, questa è la casa della diversità, questa è la casa dello spirito, dell'amore e dell'amicizia. L'amore è il sentimento più bello e profondo, perché amore, vedete, non è solo eros. Amore dentro l'amore c'è tutto. C'è come dice Dante, ciò che muove il sole è tutte le azze stelle, perché senza l'amore e la passione noi oggi non sentiamo tutti quanti qua.